Delusa la maggioranza Scafati, mentre gongola tutta la minoranza che è riuscita nell'intento di portare al ballottaggio il sindaco Pasquale Aliberti, che ha ottenuto meno voti delle sue liste. Chiaramente un messaggio da chi è forse in parte non è rimasto soddisfatto da quanto fatto dal sindaco Aliberti. Le minoranze si compatteranno su pochi punti per dare una stagione politica nuova alla città di Scafati. Questo è il verbo annunciato dal candidato avversario del sindaco uscente Nicola Pesce. E questo è quanto dicono gli alleati del medesimo candidato. I cittadini invece sono stanchi e non hanno molto apprezzato il clima vissuto durante la campagna elettorale. Ma ascoltiamoli. Dottore Pesce, 15 anni fa lei chiudeva la sua esperienza politica. Dopo 15 anni ha sentito l'esigenza di riproporsi e l'elettorato l'ha premiata. Ballottaggio con il sindaco uscente Pasquale Aliberti. Come si sente in questo momento? Per me è stata una grande soddisfazione, un senso di testimonianza di effetto da parte dei cittadini di Scafati e io spero di poter assecondare questa loro fiducia. C'è adesso una composizione molto variegata delle opposizioni. Lei chiederà a tutti di darle una mano? O veramente c'è un accordo fra tutte le minoranze, qualora si andasse in ballottaggio? Tutti contro? Io chiederò a tutti quanti di sottoscrivere un accordo, un programma politico che porta al primo posto la riapertura dell'ospedale di Scafati. Per me è una battaglia di principio che io farò e tutti quanti che sono d'accordo su questa linea possono insieme a me fare una battaglia politica. Quindi il problema principale per lei è l'ospedale, ma l'amministrazione della città comporterà sicuramente delle responsabilità diverse? Sì, l'ospedale è al primo posto, il disinquinamento del fiume Sarno immediatamente e poi ovviamente affronteremo i problemi amministrativi con l'impegno mio di sempre. Però siamo un altro punto di capo. Come sarebbe il punto di capo? Eh no, il sindaco non è stato eletto e quindi penso che ci si è ballottaggio, no? Tra 15 giorni? Sì. Ma secondo lei è stata una bella campagna elettorale o un clima teso, inopportuno? Un po' così, un po' così. Io ho visto un clima molto teso. Non le è piaciuta? No, assolutamente. Anche perché oramai da parte delle fazioni politiche la campagna elettorale è semplicemente un campo di battaglia dove cercare di conquistare il miglior pezzo possibile di terreno. Molto grido.